Sì, si preghi a Gettino di spegnere i carri scendolari, di prestare silenzio nella fase di gioia, non comprometterà. Grazie per la visione! 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 Senko Tocco, Rooney 4 5 5 5 5 5 5 6 7 8 8 8 9 9 10 10 12 13 14 14 14 15 15 15 15 15 16 15 15 20 20 20 20 20 20 20 Grazie a tutti. 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 Out.